Salgono a 1255 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore nella regione Lazio su 41.503 tamponi effettuati con un tasso di positività al 3%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 4 le vittime in un giorno, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 716 e salgono anche i pazienti in terapia intensiva che nelle ultime 24 ore sono 94.